L'utente Tom della squadra I Love Birds ha scritto alla nostra community che online è praticamente impossibile trovare qualcuno che parli bene dei piccioni. Saranno veramente così in tanti ad odiarli? Abbiamo verificato. Digitando piccione otteniamo quasi 3 milioni di risultati. Ma le parole più in evidenza sono piccione malattie, piccione allontanamento, piccione come uccidere, piccione arrosto. Abbiamo letto dei sindaci di Comelecco che hanno organizzato contro questi poveri animali squadre di cacciatori con licenza di uccidere. E' scoperto che i piccioni sono accusati di essere responsabili di oltre 60 tipi di malattie. Abbiamo addirittura saputo che qualche anno fa una squadra di scienziati cinesi ha inserito dei microchip nel loro cranio per poterli telecomandare a distanza. Insomma, l'unica qualità del povero piccione sembra quella di avere una carne molto pregiata. Ottima da fare in umido. Bow Boys, che ne dite? È giusto schierarsi così tanto contro questo povero animale? Visto che sono in molte ad odiare i piccioni, ci vuole qualcuno che li difenda. E per questo ci sono i Bow Boys, insieme agli amici del movimento Manu. Soldato Russell ci ha segnalato il movimento Allontanarli e Non Ucciderli, che denuncia i rispingitori per piccioni fatti con aghi metallici. Ogni giorno feriscono a morte migliaia di animali. La soluzione è semplice. Sostituiamo i rispingitori di metallo con i rispingitori in plastica, che terranno lontani gli uccelli senza far loro del male. Diamo una mano a questi animali sfortunati. Firmiamo la petizione su www.vowboys.tv